Ricordati che di fronte ai bulli non sei mai solo. Io sono con te. Per dire no al bullismo anch'io ho deciso di sostenere la campagna di Telefono Azzurro. Fai come me. Diciamo insieme no alla violenza e al bullismo e se hai bisogno di un aiuto chiama l'19696 di Telefono Azzurro.